E' illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, motivato col fatto che il ricorrente non aveva fatto rientro in patria. La disposizione che prevede il rientro si interpreta nel senso che gli stranieri debbono rientrare nello stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale per l'anno successivo. Mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia la disponibilità di una quota del decreto flussi, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi, ad esempio condanne.